Andrea Montanari amichevoli con buoni risultati prestazioni positive penso anche da parte della squadra con un sacrificio che voglio di fare di metterci in mostra e dai, bene speriamo che vada tutto bene La squadra come la vedi invece? tra i nuovi acquisti l'amalgama di tutti i nuovi componenti invece quelli vecchi? Diciamo che quando vinci un campionato in Serie D a me è anche capitato in passato quando tieni la spina dorsale e fai quelle aggiunte giuste secondo me non gufando, ci fa sempre bene i nuovi acquisti li vedo molto bene sono atleti seri professionali giovani interessanti anche quindi penso che ci sia un giusto impasto un buon mix per far bene